La somministrazione dei vaccini a Pesaro si sposterà nell'ex ristorante Ristò all'interno del Rossini Center a cominciare dal lunedì 29 marzo. Dopo l'ok del comune di Pesaro arrivato lo scorso lunedì, oggi c'è anche l'ok della regione Marche, che ha effettuato un altro sopralluogo assieme al personale di Area Vasta 1 e del distretto sanitario. Presente al sopralluogo anche l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, che ha ringraziato Area Vasta 1 e comune di Pesaro per essersi prodigati nell'individuare un nuovo sito vaccinale reputato assolutamente adeguato. Ringraziamenti anche alla proprietà del Ristò, che metterà a disposizione gratuita i locali che saranno attrezzati e informatizzati ai fini della vaccinazione. Intanto proseguono le inoculazioni al Centro Sociale Monaldi in Via del Cinema almeno fino al 25 marzo. Dopodiché, dal 26 al 28 marzo, date in cui non sono previste vaccinazioni, si effettuerà il trasloco delle attrezzature dal Monaldi al Ristò per i vaccini che cominceranno nell'area della Torraccia il 29 marzo. Non sono invece emerse novità rispetto alla possibilità di allargare la sede della celletta nella vicina palestra di Via Pasolini, inizialmente avallata dal comune di Pesaro. Sempre in tema di vaccini, ieri è stato ritirato l'otto sospetto del vaccino AstraZeneca ABV 2856 nelle marche, come in tutta Italia, dopo la segnalazione dell'AIFA che ha portato alla sospensione della somministrazione dell'otto in seguito a tre morti sospette in Sicilia. Un ritiro strettamente cautelativo perché ad oggi non è stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino ed eventi avversi. Anche dalle autorità sanitarie arriva l'invito a non creare psicosi, visto che effetti come febbre e dolori muscolari rientrano tra le normali reazioni all'inoculazione. Nelle marche, i vaccini AstraZeneca in questione sono stati somministrati a 1.750 persone. La maggior parte di questi, circa 1.000, proprio a Pesaro all'ospedale di Muraglia in occasione delle vaccinazioni a forze dell'ordine, professionisti di giustizia e a parte della sanità locale. Somministrazioni già effettuate da giorni e che non hanno prodotto episodi di effetti collaterali rilevanti.